Potente appala ragazzi, qua ho Axel of Geomagad, oggi sono da sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è il nuovo squad builder Qualcuno di voi forse lo riconosce già, qualcuno no, perché qualcuno lo dovrebbe già riconoscere? Perché questa squadra ve l'avevo fatta, ve l'avevo presentata già ieri con Marco Sinci58 Solamente cosa è successo? Non perché l'ho editato male, perché come ho già detto ci sono stato veramente un 3 o 4 ore ad editarlo Infatti è tipo il video con cui ci ho messo a editarlo in maggior tempo, nell'ultimo mese Però cosa è successo? Mentre lo renderizzavo Sony Vegas e sono dovuto andare Sony Vegas evidentemente l'ha disincronizzato e dato che io ero fuori e l'ho fatto caricare a mio padre, così è successo L'ho caricato senza vederlo prima ed era appunto tutto disincronizzato Ma subito dopo io vi ho chiesto scusa, ho fatto mia colpa, ho eliminato il video ed eccomi qua a riproporvelo Comunque ragazzi, questa qua è una squadra abbastanza particolare perché non è una squadra che magari io utilizzavo e ho deciso di farvi vedere Ma pensi, è una squadra costituita da molti giocatori che hanno cambiato squadra Dai cosiddetti transfer, innanzitutto ci tengo a dire che è veramente una bella squadra costituita da elementi forti Ma che ora vi andrò un attimo ad analizzare e a presentare Comunque prima di ricordare, prima di ricordare, prima di iniziare volevo ricordare di passare da FIFA Come stai a essere interessati a comprare che è di FIFA e direi di partire subito con la squadra Allora in porto utilizzo il primo transfer di questa squadra, Thibaut Courtois Che ha cambiato squadra dall'Atletico Madrid, è passato al Chelsea o meglio era in prestito all'Atletico Madrid Di Thibaut Courtois cosa devo dire? Ragazzi sinceramente non mi è piaciuto Ora ho avuto anche modo di utilizzarle un po' di più perché come vedete questa squadra l'ho utilizzata per 4 partite E Courtois non mi è piaciuto affatto, ci potete mettere tranquillamente check Io ho appunto utilizzato Courtois perché era un transfer ecco Ma passiamo alla difesa, in difesa utilizziamo Mangala che dal porto è passato al Manchester City L'ho pagato 11.000 crediti, ecco ci tengo a dire che i prezzi sono così alti perché essendo appena usciti ci sono poche carte sul mercato E proprio per questo motivo il loro prezzo sarà eccessivo, troppo eccessivo Infatti se volete fare questa squadra e avete i crediti, fatela direttamente oppure se volete prendeteli soprattutto da FIFA e CONSTANCE Ma se non volete farla perché non avete i crediti potete tranquillamente aspettare Che vi posso assicurare che magari tra un 3-4 giorni i loro prezzi si abbasseranno Altro difensore centrale utilizzo David Luiz David Luiz e Roio saranno le uniche due eccessioni di questa squadra Perché sono due giocatori che hanno cambiato squadra Ma io utilizzo la loro carta della squadra prima, della squadra in cui erano prima scusate Quindi David Luiz dal Chelsea, baggatissimo, 187 partite praticamente ce l'ho in tutte le squadre da quando ho FIFA E non c'è nient'altro da dire Passiamo invece a Roio, ragazzi Roio non l'avevo mai provato, devo dire che mi è piaciuto E' un 76, oro non raro ma statistiche veramente eccezionali Perché ha 72 di velocità, 77 di difesa e 80 colpo di testa Passiamo invece ai due CDC Da una parte utilizzo Martich Team of the Season che è passato dal Benfica al Chelsea solamente a gennaio se non sbaglio L'ho pagato 138.000 crediti Anche lui statisticamente parlando mi sembrava una bestia Ma in gioco forse mi è piaciuto meno Però comunque devo ancora provarlo veramente Passiamo invece all'altro CDC Elias che dal Flamengo se non mi sbaglio è passato allo Sporting Lisbona Come anche Nani che dal Manchester United è passato allo Sporting Lisbona Comunque Elias Elias ragazzi come Roio sembra Un giocatore veramente forte Statisticamente parlando meglio Con le statistiche sulla carta Ma devo dire che anche in game ha delle statistiche veramente fenomenali Se volete andarle a vedere andate su Futed Passiamo invece all'esterno destro All'esterno destro utilizziamo Nani Che è stata un po' una sorpresa Perché è stato affiancato a molte squadre italiane E poi improvvisamente dal Manchester United è passato allo Sporting Lisbona Beh Nani devo dire che mi piace sempre perché ha 5 stelle di massabilità 4 stelle di piede debole Se non mi sbaglio ha un alto valore di finalizzazione Passiamo invece all'esterno sinistro William che non ha cambiato squadra però lo utilizzo per fare intesa Potrei utilizzare anche Hazard volendo Poi come COC utilizzo Tadic E ragazzi l'ho visto giocare due volte Mi sono subito innamorato di questo giocatore Poi Southampton adesso c'ha la coppia Tadic-Pellè E oh mio dio quanto becca Comunque Tadic poi che è passato dal Tuente al Southampton E devo dire che c'è anche una sua versione Team of the Season Che non vedo l'ora di provare perché sembra veramente una bestia Ma passiamo un attimo al duo offensivo Da una parte utilizzo Markovic e dall'altra Balotelli Entrambi i giocatori del Liverpool Markovic è passato dal Benfica al Liverpool Invece Balotelli ahimè dal Milan al Liverpool Adesso non so sinceramente se sia stata una cosa positiva o negativa Che Balotelli se ne sia andato dal Milan Perché secondo me era un uomo che poteva risolvere la partita Però come ho già letto o meglio come molti di voi mi hanno detto La risolveva una partita su 9 Ciò non va molto bene Quindi magari fatemi sapere un vostro pensiero a riguardo Detto questo ragazzi questa qua è la squadra Io direi di andare a provare in live Primo sfidante di oggi Andiamo a vedere la squadra Ecco non l'ho detto Se potete lasciate già un bel mi piace Che credo che domani dopo domani Esca il video anniversario Quello del bi-anniversario del mio canale Perché se voi non lo sapete Il 25 ha compiuto due anni Solamente io il 25 era appena tornato Il 26 quindi ieri ho fatto il video Ne avevo fatto anche un altro Che è appunto quello che è stato disincronizzato da Sony Vegas Comunque errore mio ad averlo caricato senza averlo visto E avevo appunto registrato quello del bi-anniversario Che sarebbe dovuto uscire o oggi o domani Però appunto dato che andrò a caricare questo video oggi Credo che uscirà dopo domani Perché poi sono stato nominato da due persone Nella Ice Bucket Challenge E vi dovrò ovviamente portare anche quella Lancio per Nani Nani la prende Nani solo contro il portiere Nani che Eh vabbè Non può sbagliarlo Quindi al nono minuto Ci portiamo già in vantaggio Grande Nani Dai No Eh vabbè E Ibra Contro Ibra non si può fare niente Adesso Matic Grande Scal... E c'è il gol Matic Grande gol 2 a 1 al 29esimo Di là per Nani 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 Bella palla per Tadic Ma porca miseria No Bravissimo Mangalà Che fa ripartire la squadra Perché c'è Markovic che avanza Markovic Dai Markovic Dai Markovic Dai Markovic No è andato troppo sull'esterno Ma prende il palo Elias per William Bella palla Vai Markovic Markovic Per Balotelli Che finalizza Finalmente 3 a 2 al 79esimo Ci portiamo in vantaggio Buono Oh porca miseria Oh porca miseria No vabbè Ma ti rendi conto È salito tre volte Ha fatto tre gol Dai bella Bella Elias 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 No La presa No vabbè No vabbè Ah finita in pareggio Andiamo a farne un'altra Che una almeno la devo vincere Dai Secondo avversario Speriamo Oh no questa devo No È dura è dura anche questa Grandissima palla per William Dai fammelo Non me lo fa Perde palla Ma William la riprende William 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 la mette in mezzo Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Salta Sulla tua Balotelli Super Super Mario Mamma mia ancora parata La mette in mezzo Tiro di testa Gol Quattordicesimo 1 a 0 Sembrava una maledizione Bravissimo interbellissimo Bravissimo intervento Perché si riparte Con Tadic 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 Vede Markovic 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 Solo contro portiere Markovic E segna 2 a 0 Al diciannovesimo Dai E tunze E tunze Dai E dai Cavallo William Di scarta 2 La mette in mezzo Madonna Di semi rovesciata Era il top Calcio champagne Ragazzi Palla vero William William Bella Per Markovic Parata Ancora Però ci siamo Ancora parata Bella Bella Madonna Madonna Ancora i numeri Ancora i numeri Palla per Mamma mia E c'è il gol Al settantottesimo Nani Buono Passati sette minuti Arbitro Palla a finire Sono passati sette minuti Sette Non uno Sette Anzi no Fammi fare l'ultimo gol Ci sta Ci sta l'ultimo gol No vabbè Vabbè Va bene ragazzi È finita E abbiamo vinto 3 a 2 Incredibile Comunque Allora Innanzitutto volevo dirvi Che questa squadra Sinceramente mi è piaciuta molto E credo che tornerò Al 3-5-2 Adesso quella squadra là Ovviamente è fortissima Però è ora di cambiare Non so solo quella Praticamente Credo che tornerò Al 3-5-2 I giocatori mi sono piaciuti Particolarmente Sono Markovic E Nani Invece i giocatori Mi è piaciuto meno Come avevo già detto Courtois Comunque ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Vi svolta lasciate un bel mi piace Vi prego No Se vi va Lasciate un bel mi piace Arriviamo a 3.000 E quindi detto questo Io vi saluto E vi dico potenta Palla ci sento Nel prossimo video Bolla Palla ci sento